Poco dopo il gol, Müller va sul fondo, vede Altobelli, servizio ottimo, bel colpo di testa vincente. I genoani reclamano, ancora un palo, questa volta è di Marini, traversa per l'esattezza. Entra dentro Bosetti, un giovane, fugge sul fondo, mette al centro, testa del liberissimo Briaschi, 1-1. Un punto più che meritato per il Genoa, molti rimpianti per l'Inter.